Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Prosegue il maltempo al sud sul versante adriatico per effetto della perturbazione arrivata negli ultimi giorni che sta richiamando aria sempre più fredda dal centro nord Europa. Proprio quest'aria più fredda porterà la neve a quote via via sempre più basse anche sulle regioni centrali. Qualche nevicata residua in pianura sull'Emilia Romagna, neve in alta collina su Marche Umbria e gradualmente anche sull'Abruzzo quindi buona parte dell'Appennino centrale. Pertanto in Abruzzo inizio di settimana invernale con tante nubi, pochi momenti soleggiati e precipitazioni più presenti sui tratti costieri sul Terramano. La neve scenderà da prima oltre i 1000 metri al mattino ma entro sera subentrerà aria via via sempre più fredda da nord che porterà le nevicate oltre i 600-700 metri di quota sul Terramano, Pescarese, Aquilano centro-settentrionale. Le temperature pertanto sono attese in netto calo massime tra 7 e 12 gradi, minime tra 0 e 7 gradi. Con questo concluso grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie.